Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Antonello Canella, che mi chiede di parlare del film del 1992 di Bernard Rose, tratto dal libro The Forbidden di Clay Barker, Candyman, con un grandissimo Tony Dodd appunto nel ruolo dell'uomo con le api e con l'uncino, con una splendida Virginia Madsen nel ruolo della protagonista Ellen, che è una studente universitaria che sta per dare la tesi insieme all'amica Berni, trattata benissimo da Cassie Lemons, che praticamente si imbattono in questa leggenda appunto di questo Candyman, questo spirito di un uomo nero praticamente che se lo chiami cinque volte davanti allo specchio dovrebbe apparire e praticamente ucciderti, apprendoti dal linguine alla gola. Questa strana leggenda metropolitana sembra crescere e nascere in questo quartiere Cabrini-Illa, quindi la nostra incomincia con la sua amica a cercare insomma di trovare indizi sempre più importanti per fare appunto questa tesi universitaria. Lei è sposata con il professore universitario Trevor, interpretato benissimo da Xandens Berkley e insomma il loro rapporto però sembrerebbe instabile per le relazioni che il nostro potrebbe avere con delle studentesse. Ma tutto questo insomma porterà la nostra nel Cabrini e porterà sempre di più in realtà ad affrontare Candyman, visto che una sera dice cinque volte davanti allo specchio Candyman per fare uno scherzo alla sua amica e Candyman arriva davvero a trovarla e incomincia a ammazzare tutti quelli che ha intorno e lei incomincia a sembrare la colpevole fino a un finale meraviglioso. A film secondo me è anche un capolavoro tra gli horror, va detto un film che ormai è storicizzato a più di trent'anni ed è veramente incredibile. Il secolo era gradevole di Balconov, il terzo poca roba, il remake è interessante ma niente a che vedere con questo veramente capolavorone, con delle musiche straordinarie di Philip Glass, con questa apertura su questa città dall'alto, con questo movimento a seguire, che ci fa scoprire con questa musica da 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 da, tutto una specie di quartiere che poi diventerà in realtà base per le ricerche della nostra. Ma tutto il film funziona alla stragrande, è proprio costruito con una tensione magistrale sin dall'inizio, con questa freddezza di una fotografia enorme, di un Anthony B. Richmond in grandissima forma appunto che regala questa glacialità che poi si scalda nel momento in cui in realtà arriva Candyman e ti senti angosciato da questa presenza terrificante anche nei racconti, quando viene raccontata all'inizio dai nostri, per un film che si muove sempre più sul ritmo che va a salire, parte giustamente lentamente con i nostri che fanno delle ricerche, con un certo tipo di ironia, e poi lentamente il tutto diventa sempre più in un certo senso violento, sempre più crudele e anche sempre più realistico nella parte appunto in cui troveranno il Candyman, quello della strada che non ha niente a che vedere con il Candyman diciamo così sovrannaturale che poi appunto il nostro Tony Todd tirerà fuori la grande nella storia appunto di questo che poi scopriremo essere appunto diventato Candyman perché è torturato con le api, il miele insomma perché si aveva fatto il ritratto di essere innamorato di una donna bianca anche se ormai la schiavitù era finita e quindi era stato deflagrato dalla famiglia, un film meraviglioso che parla di razzismo, che parla in realtà di umanità, che parla di un certo modo, di un tipo di America che vuole nascondere, presenza le sue magagne e le vuole nascondere attraverso delle bugie che diventano in realtà quindi la base per poter portare alla luce la crudeltà e la crudeltà in questo caso è Candyman, un uomo deflagrato, distrutto dall'amore che non ha potuto raggiungere e distrutto dall'odio, questo odio che lo renderà così possente e poi fa una paura cane quando Candyman arriva e ammazza, è veramente terribile proprio perché la nostra è l'unica che in realtà riesce a vederlo e tutte le scene con il bambino che scompare tutta la parte finale nel ruolo, è un film meraviglioso, è un film meraviglioso dall'inizio alla fine, recitato da Dion, scritto in maniera perfetta dallo stesso regista che ha un talento enorme, che riesce a mettere in scena un racconto che diventa, secondo me, non cult, ma proprio ripeto un capolavoro con Tony Todd che non si toglierà più questo personaggio da addosso perché è veramente incredibile, incredibile per come lo recita, incredibile per la possenza fisica, incredibile nei costumi, tutto, uno di quei classici film che funziona nella stragrande, crea la tensione sempre di più, arriva all'orrore che esplode e in quel momento veramente l'angoscia rimane, per un film che si chiude anche in maniera, come posso dire, in un certo senso, che sembra un liato fine ma che non lo è e che lascia ancora in una condizione di completa angoscia e anche appunto per quello che succederà nella scena finale che è veramente spettacolare e che chiude un film meraviglioso, un film che ripeto, ma solo per la colonna sonora e Philip Kless andrebbe visto, ma che in realtà mette insieme tutti i mezzi cinematografici per creare, ripeto, un'ansia incredibile, una suspense enorme ed arrivare dal terrore all'orrore in un attimo senza mai, diciamo, salti sulla sedia regalati, senza schizzi del cazzo, ma attuando tutti i mezzi cinematografici da Hitchcock a Cabinire in su che riescono a farci creare l'attenzione, riescono a crearci l'orrore grazie anche a un soggetto, quello di Reeve Barker, assolutamente intoccabile, quindi per me un film che dovete vedere 1700 volte, un capolavoro assoluto di un certo tipo di cinema horror che sembra andare a scomparire per dare sempre più spazi a stronzate, qui si aveva voglia di raccontare la società, si aveva voglia di raccontare la povertà, si aveva voglia di raccontare lo sbilanciamento appunto delle classi, attraverso però un racconto anche appunto sull'America e sul sangue sulla quale è nata e cresciuta e continua in un certo senso a crescere e vivere, quindi per me un film da non perdere perché inoltre ad avere tutto queste cose fa una paura veramente incredibile, grandissimo film, il link è qua sotto, donatevi su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su Youtube seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che caso faccio a Giroveritalia e ve lo ridio questo Candyman per me è un capolavoro, uno dei film che amo di più vedere, lo guarderò 30 volte l'anno è un film che su a memoria tutte le volte che lo guardo però riesce a trasmettermi tutta la forza di una regia, quella di Bernard Rose, magnifica, di una colonna sonora splendida e di un'idea appunto di tutti i mezzi cinematografici, inclusi gli attori, utilizzati in modo assolutamente esemplare Grazie Grazie